Le persone non vedenti hanno difficoltà a dormire. Circa l'80% delle persone non vedenti ha difficoltà a dormire, la ricerca mostra. Il cervello generalmente elabora la luce che passa attraverso gli occhi per impostare il ritmo circadiano del corpo, o l'orologio 24 ore che regola i modi di veglia e sonno della persona. Le persone che non sono completamente cieche non tendono a soffrire come molte difficoltà di sonno di coloro che sono completamente ciechi e non hanno capacità quindi di vedere segnali luminosi. L'incapacità del corpo di regolare il ciclo del sonno a causa della mancanza di segnali luminosi è un disturbo del sonno noto come disturbo della scia non 24 ore. Si stima che colpisca almeno 95.000 americani, la maggior parte dei quali sono totalmente ciechi. Cecità. Il ritmo circadiano medio per una persona totalmente cieca di 24, 5 ore invece delle 24 ore standard. Secondo le stime 1,3 milioni di americani sono ciechi, e circa il 10% di loro non ha alcuna possibilità di vedere alcuna luce a soffrire di cecità rispetto a qualsiasi altra razza, la ricerca mostra.